Federico II è un personaggio straordinario che domina il panorama della storia in tutta la prima metà del Duocennio. Abbiamo da raccontare grandi storie. Ci resta un luogo, avendo per tetto il cielo, per pavimento il prato e per pareti il tempo, la storia della nostra città. Qui Federico II ha emanato le Costituzioni Melfitane, una vera modernità per l'epoca. Federico II ha ben presente l'importanza della Basilicata, il centro in qualche modo dell'intero mediterraneo, l'ombelico del mondo, potremmo dire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.